allora siamo qua con fausto bertinotti un amico ormai possiamo dirlo di transforme transform italia e che ringraziamo per la gentile presenza il suo contributo sempre prezioso e noi partiamo da un ragionamento che spesso in redazione facciamo e quindi volevamo un po anche sentire la tua opinione su quello che che pensi sia lo stato delle cose in particolare di fronte lo schadenarsi di crisi che di volta in volta si susseguono ci sembra sempre più evidente che nonostante tutto la destra sia quella diciamo nazionalista o sovranista come viene definita e sia il campo neoliberista riescono a avere un consenso a mantenere diciamo la guida della transizione se esiste una transizione e quindi questo era una domanda di scenario che ci siamo fatti in che vogliamo meglio di me lo farà eh roberto musacchio eh nel nel spiegati e poi altre domande che vengono poi da stefano galieni e da elena coniglio che volentieri sono tutti grazie ancora e do subito la parola musacchio per la prima domanda sì meglio no nel senso che abbiamo chiamato te proprio per farla meglio attraverso la risposta anche a riqualificare la domanda insomma eh insomma ragionamento e ci siamo fatti che in qualche modo un po di teoria ne abbiamo bisogno ehm noi settimanalmente seguiamo gli avventi e gli avvenimenti vorremmo provare anche un po ad alzare la capacità di lettura e ci siamo interrogati su questo concetto di crisi insomma concetto abbastanza cruciale eh per per chi viene da 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 Marx insomma eh dal movimento operaio dal movimento comunista la crisi è sempre stata considerata un punto fondamentale eh di azione eh necessaria possibile eh per il cambiamento per la rivoluzione eh naturalmente ci sono letture molto anche economiche ed economiciste forse della crisi insomma le crisi di sovra produzione di allocazione eccetera eccetera insomma e io penso che dovremmo cercare di guardare un po' più un concetto allargato di questa definizione di crisi ma te lo propongo semplicemente come domanda e soprattutto se siamo di fronte tra virgolette a un fatto nuovo diverso no eh rispetto anche alla storia del novecento quando dentro le crisi a volte sono maturate eh situazioni rivoluzionari eh credo proprio di poter dire dall'inizio stesso del secolo insomma ma qualche rimando possiamo farlo anche all'ottocento insomma ma diciamo per stare più compiutamente dentro eh il momento della lotta di classe che ha come soggettività il movimento operaio del novecento e mi pare che da da quest'ultimo trentennio eh o anche più eh di fronte alle crisi ci sia stato un riattrezzarsi complessivamente di quella che possiamo chiamare destra ma io più che chiamare categorie destra sinistra chiamerei proprio capitalismo anticapitalismo cioè il capitalismo ha fatto della crisi eh non un elemento di debolezza ma un elemento di forza eh noi in questi anni abbiamo seguito la crisi economica del del duemilanove abbiamo seguito la crisi pandemica abbiamo seguito adesso la crisi bellica eh addirittura guerra mondiale eh appuntate abbiamo detto movimento dei movimenti l'abbiamo chiamata guerra preventiva e permanente insomma e dentro queste eh situazioni anche drammatiche abbiamo visto un prevalere di soggettività capitalistiche allora eh come se ogni volta avessero una capacità di resilienza messa in campo ora eh vorremmo anche provare a uscire un po' dalla sfrattezza cioè i poteri come come cambiano dentro queste crisi eh sono poteri astratti diciamo una sorta di metacapitalismo oppure ci sono delle trasformazioni anche concrete che andrebbero più indagate eh pensiamo adesso per esempio all'intreccio che c'è eh tra il permanere di una fortissima predominanza eh del capitalismo globale finanziarizzato e poi la dinamica della guerra il neoatlantismo come caratteristica di questa fase ma non solo perché poi anche eh gli altri settori geopolitici si attrezzano intorno a categorie eh di dominio che non sono sicuramente scevre da un rapporto con il capitalismo che un po' tutte le aree del mondo hanno in questo momento cioè ci abbiamo forme molto concrete che vanno anche analizzate viste eh e oppure diciamo siamo dentro una metacategoria verso e da questo punto di vista eh che cosa è successo alle sinistra tra l'essere cottate l'essere eh annichilite o anche qualche eh spunto qualche possibilità di cambiamento di rivolta di rivoluzione eh che eh possiamo ancora nominare ecco questo un po' te l'ho fatta sinteticamente eh a te che sorridi no sorridi no sorridi perché Roberto è stupendo l'ha fatta sinteticamente capito ha squadernato un un ordine di problemi e che richiederebbe un seminario in progress la produzione di un libro di dieci libri eh una reinvenzione della critica al capitalismo come quella che che si inventò a Nero Panzieri all'inizio degli anni sessanta indagando appunto un nuovo ordine capitalistico e quindi diciamo così il cimento che propone è quello da vast programma io provo a dire la così diciamo rischiando la schematismo la sommarietà uno le crisi è un buon approccio alla condizione di capire che a una crisi ne succede un'altra cioè non si può più dire la crisi perché le crisi sono un continuo e così le parole hanno un senso no ho visto che il dizionario britannico Collins che come sapete è una perla della linguistica in cui si è immersi ha stabilito che la parola del 2022 è una nuova parola che si potrebbe dire così permacrisis che viene dalla congiunzione di due termini permanent e crisi cioè in altre parole detto in italiano la crisi permanente secondo il britannico Collins è la parola dell'anno e io penso che abbia ragione perché vista adesso il corso delle crisi vista adesso il corso delle crisi che che roberto ha ricatalogato da luogo un continuo e il protagonismo non è il neoliberalismo il protagonismo è il capitalismo e il capitalismo che mostra una straordinaria adattabilità cioè insomma genera processi sia e si adatta ai modelli però cosa però genera la crisi cioè non 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 ha più l'ambizione o comunque chiamala se vuoi ambizione di uscire dalla crisi con una ipotesi di sviluppo non ce l'ha la dismesse totalmente la condizione migliore per esercitare il ripristino di un totale comando capitalistico non solo sull'economia sulla società sulla natura sulla vita delle persone è il permanente della crisi roberto ha ricordato la differenza il novecento ma è punto il novecento aveva l'ordine del giorno della rivoluzione e questo questo elemento faceva sì che la crisi poteva essere un'opportunità ma la crisi è un'opportunità soltanto se è in campo l'ipotesi rivoluzionaria altrimenti la crisi è sempre un punto di forza del sistema faccio notare che tutte le diciamo così le ambizioni riformistiche sono sempre andate a sbattere sulla crisi ma anche l'ascesa dei movimenti in assenza del del salto rivoluzionario del cambiamento cioè del regime economico sociale politico entra in difficoltà ma scusate in italia l'abbiamo avuto quando comincia la difficoltà del grande movimento 68 69 che genera la lotta di classe vincente degli anni 70 quando appare la crisi e il confronto insieme con l'inflazione e con il rischio della recessione porta porta che cosa al compromesso con il capitalismo dismetti diciamo così la tensione di cambiamento e scegli il compromesso noi l'abbiamo vista con la politica dell'euro per parlare della politica sindacale di quegli anni 80 ma perché perché eravamo arrivati precisamente a un'auto adesso non voglio insistere cioè il movimento a quel punto o era in grado di determinare uno sbocco di cambiamento del modello di sviluppo economico sociale oppure si faceva reimprigionare dalle compatibilità cioè la crisi in assenza di un'attualità della rivoluzione è un'arma in mano al capitalismo un'arma di più adesso è un'arma l'avremmo detto ieri adesso non è un'arma è la condizione attraverso il quale il capitalismo governa i processi economici sociali politici quindi diciamo è l'acqua in cui nuota la crisi è l'acqua in cui nuota e perciò non c'è niente da aspettarsi da questo punto di vista appunto la parola la parola del 2022 è crisi permanente ora che cosa è il punto di contraddizione il punto è diciamo naturalmente questo elemento funziona in presenza di un'egemonia di un comando capitalistico che impedisce qualunque ipotesi anelito di cambiamento e di trasformazione persino di ribellione cioè il capitalismo per poter stare così deve trasformarsi per esempio deve abbattere quello che resta delle democrazie perché è evidente che è incompatibile con la democrazia cioè se tu hai una condizione permanente di crisi i soggetti sociali che la subiscono diventano sempre di più e come fai allora a controllarli prima mettendo fuori gioco la democrazia il secondo elemento ancora è di tenere la sfera della politica per un verso totalmente servile la politica sulle grandi scelte economiche sociali è dipendente adesso in Europa bisognerebbe avere un'attenzione a una politica come quella che il governo Sanchez sta facendo per non dire come mi avrebbe da dire tutti i governi sono uguali quindi ci sono delle articolazioni bisogna riconoscere però tendenzialmente il nucleo centrale di governo dell'economia è garantito va di governo in governo la Melonia è il primo governo di destra integralmente, organicamente di destra nella storia del dopoguerra e anche per questo il dopoguerra è finito ma sul terreno delle politiche economiche di integrazione europea ma sei dentro assolutamente la linea di tendenza e sei sulla scia del tragismo gli elementi sono assolutamente marginali quindi la politica viene annichilita la politica annichilita sul terreno decisivo della società è evidente che in qualche modo fuoriesce e fuoriesce producendo una contesa mi parlo di Cesaro Roberto che per molti elementi per cercare di sottrarsi a questo dominio torna sui vecchi cardini la guerra la nazione e il populismo di destra cioè appunto quello che può usare anche la guerra da cavalcare come un elemento identitario e che lo sposta progressivamente ma, ripeto, siamo su questo terreno il punto centrale, secondo me o almeno uno dei punti in politica poi parliamo delle cose più importanti è la scomparsa di una critica da sinistra all'ordine delle cose esistenti cioè per critica intendo la forza intendo cioè la soluzione del problema della forza per opporsi guarda, è così vero che persino per stare nel cortile di Casanotte governa assolutamente di destra ma questo non ti dà come risultato immediato l'opposizione no ti dà le rivolte, le opposizioni, i rancori ma l'opposizione è un processo di costruzione come un processo di costruzione della classe come un processo di costruzione del popolo non è vero che siccome c'è un governo che fa schifo dunque c'è un'opposizione all'altezza della sfida naturalità no, naturalità è un corno perché appunto perché perché tu vivi dentro appunto la crisi e la crisi secondo me ho scritto davvero un bel libro bello Fiore Garibald l'ultimo metro quello che avviene nel conflitto di classe che secondo me poi appunto ne va al giro anche della vicenda di oggi va indagato perché lì c'è il problema il problema il capitalismo che vince vince perché che ha operato il rovesciamento del conflitto di classe è riuscito a operare il rovesciamento del conflitto di classe sì certo della sua la potenza della rivoluzione tecnico-scientiva e altro di cui possiamo discutere ma ma può andare avanti perché ha fatto del lavoro il ventre molle dell'accumulazione capitalistica questo punto è assolutamente essenziale tutte le chiacchiere su il postmoderno l'inesistenza della questione del lavoro vengono proprio sbaragliate dalla crisi assolutamente sbaragliate dalla crisi ma che cosa che cosa accade in questo accade che una opposizione forte deve poter muoversi su tutto il campo vaiegato del conflitto reale e potenziale cioè noi questa cosa anche qui non ci sono più gli operari non c'è più la grande fabbrica non vuol dire come sappiamo come Roberto sa benissimo non vuol dire niente la composizione sociale di classe si è sempre modificata radicalmente nei passaggi storici e il conflitto di classe ascendente si è determinato quando il proletariato ha guadagnato il possesso della chiave per intervenire nella nuova situazione attraverso il conflitto quindi il problema è qui cioè se la macchina va sulla sua strada di crisi in crisi le obiezioni che si possono fare sono molteplici la prima delle quali però la accantono perché è troppo impegnativa è chiedersi se questo questa ristrutturazione capitalistica permanente e questa crisi permanente non esponda l'umanità non solo la classe l'umanità al rischio della catastrofe io penso che sì io penso che sì che avesse ragione allora Orso Luxemburg che ne ha ancora di più oggi che ne ha ancora più per oggi il rischio il rischio della catastrofe c'è ma il capitalismo non è non è lui in grado di allontanarlo perché per allontanarlo si deve aprire uno scontro di civiltà uno scontro di civiltà contro la civiltà erogata da questo capitalismo finanziario globale uno scontro di civiltà che muove che muove dal conflitto di classe e qui io sarai meno disperato diciamo di quello che in genere corre in giro perché è vero che ho imparato la parola del 22 era quella che abbiamo detto però adesso imparo proprio nei giorni scorsi che in Gran Bretagna si afferma una nuova parola una nuova parola posso leggere il titolo del Corriere della Sera così non siamo noi a dirlo dice così il Corriere della Sera nel titolo il Natale inglese sembra cancellato scioperi negli aeroporti sui treni negli ospedali alle poste ovunque ovunque si sciopera l'onda si ferma e nasce una nuova parola questa parola se la dico correttamente in inglese si chiama strike mass cioè lo sciopero il Natale dello sciopero era prevedibile sei mesi fa no si parlava dei scioperi in Francia ma la Gran Bretagna era fuori campo era Christmas quindi tracciò il Mass e esplode questo è secondo me il problema che questo capitalismo ha di fronte passa di crisi in crisi ma il suo risultato non è la nave va il suo risultato è l'incertezza sistematica il rischio cioè che anche per lui passando di crisi in crisi la situazione possa andare a un punto in cui la crisi torna a essere un'opportunità cioè non più solo parte costitutiva dell'innovazione capitalistica regressiva socialmente e civilmente ma anche un'opportunità possibilità per mettere sabbia nell'ingranaccio e quindi far riaprire la grande contesa perché oggi la contesa che mi pare non possa muovere dal governo degli stati recuperando un'ipotesi diciamo neoriformista che mi pare incompatibile con il capitalismo di questo tempo che diversamente da quello fordista e taylorista non ha non consente margini ridistributivi come si vede la politica ridistributiva è tutta contro il salario violentissimamente contro il salario sistematicamente contro il salario quindi non c'ha margini diciamo ridistributivi e e ha sequestrato la politica cosa che gli funziona perché sequesta la politica c'è la crisi della democrazia una parte importante crescente della popolazione esce anche lei dal campo democratico e politico e si inabissa ma questo inabissarsi nasconde a noi certo purtroppo faremo bene a cercare di capire cosa succede diciamo a fare l'inchiesta per usare un termine classico ma anche la capitale ma anche la capitale nasconde ciò che sta covando nelle società nel profondo delle società negli abissi il popolo degli abissi è vivo drammaticamente ma vivo e allora io credo che in realtà certo è una contesa non lineare perché da una parte c'è questa potenza smisurata su scala mondiale del capitalismo finanziario globale che tuttavia appunto per sopravvivere ha bisogno di continuare a determinare la crisi è un punto di forza ma anche di debolezza cioè non è perché l'altra l'altra quella del capitalismo dello sviluppo della produzione di massa della produzione in serie per il consumo di massa poteva avere un modello di civiltà che guadagnava il consenso nasce così il modello americano guadagnava il consenso questo invece può soltanto comandare e far vivere il mercato come unica sfera di ogni aspetto della vita umana tutto trasformato in merce però in questo carattere totalizzario di questo capitalismo c'è anche la sua vulnerabilità appunto puoi cominciare dagli shopperi a Londra ma non sai dove possono ricominciare per quanto grazie fausto non ti rubo molto da tuo tempo do subito la parola a Stefano per altre altre domande tanto è un piacere rivederti da troppo grazie anche per me molto grazie e quindi mi allargo e te ne faccio un paio di domande probabilmente apparentemente molto più semplici ma in realtà che aprono che legandosi a quello che dicevi si aprono aprono diciamo dei focus secondo me interessanti il primo tu parli giustamente di lavoro adesso è in di turla d'arrivo il congresso nazionale della CGL la domanda che mi sono fatto sentendo spesso anche iniziative sindacali è la dirigenza ma anche il sindacalismo diffuso hanno compreso a tuo avviso l'entità della situazione o continuano o inseguono o cercano o sono ancora indietro rispetto al presente della serie questo congresso può essere un congresso di ripartenza o attende ancora che la cosa appunto che si determini una situazione alla Londra all'improvviso come è accaduto stupendo un po' tutti come come giustamente ricevi tu guarda non solo perché la mia lunghissima militanza sindacale della CGL mi obbliga a una disciplina diciamo mi sento meno libero che quando parlo dei soggetti politici provo a dirla così una cosa un po' diciamo impressionistica quando io sento parlare il segretario della CGL o leggo la sua intervista francamente mi pare convincente mi pare che dica le cose che devono essere dette se poi guardo alla pratica sindacale io trovo una dissintonia con quelle parole allora credo che bisogna ragionare su un punto più profondo naturalmente trascuro qui quel tanto di in questi anni di appisantimento del sindacato risucchiato spesso in logiche concertative persino la formula diventa parte dei corpi intermedi dei corpi intermedi sindacati non è un corpo intermedio rappresenta una parte della città e la rappresenta in conflitto con altre parti secondo me questo lento perdere di vista il conflitto essenziale questo capitale lavoro che porta il sindacato ad essere soggetto politico ma non nel senso che aveva negli anni 70 cioè soggetto politico per espansione del conflitto sociale il sindacato diventava soggetto politico perché attraverso il conflitto attraverso la lotta attraverso il contratto poneva delle questioni di società e che andavano affrontate sul terreno grande dello spostamento dei rapporti di classe del mutamento del modello di sviluppo del mutamento dei rapporti di classe nella società in quel senso mentre adesso politico vuol dire inserito nel quadro istituzionale inserito nel quadro istituzionale e il quadro istituzionale secondo me è una prigione infatti ha progressivamente messo fuori dall'ordine dei protagonisti quelli che appunto si chiamano i corpi intermedi e porcose Giuseppe De Rita ha indagato tantissimo questo fenomeno io alla sua analisi raffinata aggiungerei che i corpi intermedi sono stati messi in crisi anche per loro responsabilità e per come hanno agito non è solo un'oppensiva esterna è anche un problema interno a questa soggettività e a queste istituzioni per questa ragione io so che può sembrare demagogica questa forma ma il sindacato dovrebbe fare un bagno nei movimenti e nel conflitto un bagno cioè bisognerebbe proprio ricostruire dalla terra laddove il conflitto si esercita nelle forme anche difficili isolate segmentate in cui si produce e bisognerebbe liberarsi da alcuni come dire da alcuni sensi comuni mortiferi spesso anche le buone parole del sindacato fanno slittare la questione salariale prevalentemente in direzione dei provvedimenti governativi il fisco gli interventi a favore di certe aree sociali la rivendicazione della misura della rappresentanza anche per scongiurare i contratti pirati tutto è giustissimo tutto è giustissimo ma la condizione che siano complementari non sostitutivi del conflitto di classe tra salario profitto e rendo per dirlo più direttamente tra salario e profitto il conflitto di impresa allora perché non c'è questo conflitto così aperto così esplice cioè insomma perché non si chiede un aumento generalizzato dei salari come sarebbe come dire elementare scusami tu hai avuto come ormai hai ripetuto milioni di volte hai avuto altri paesi interni alla comunità europea in cui i salari sono cresciuti negli ultimi decenni del 30% e in Italia sono scesi del 3% e ancora se si guardano le statistiche si vedono che i dividendi delle società per azione crescono a ritmi impressionanti e i salari stanno fermi e peraltro sono divorati dai rinnovi contrattuali non effettuati e quando effettuati con un adeguamento all'aumento dei prezzi adesso di fronte a un'inflazione gigantesca rovinoso ecco allora io penso che il sindacato debba recuperare l'essenziale e nell'essenziale l'essenziale appunto la contesa salariare naturalmente quando parlo di salario parlo di salario in generale nel mio salario c'è ovviamente il reito di cittadinanza c'è il salario medico garantito ci sono le pensioni sociali c'è insomma grande questione redistributive ma è qui che io vedo un deficit dell'azione sindacale francamente un deficit io trovo il sindacato è in primo luogo un'autorità salariale da decenni il sindacato non è più un'autorità salariale che gli è stata sottratta in parte sequestrata dall'impresa e in parte segrestrata dalle politiche governative che favoriscono gli altri centri rispetto al lavoro ma parliamo è evidente se tu se tu sposti da 65 milioni a 85 milioni l'intervento fiscale per la tassa diciamo minima beh è evidente che tu ai redditi di non lavoro fai un'operazione di restituzione mentre i redditi di lavoro sono impregionati allora non solo c'è una grande contesa di classe sul terreno generale ma c'è anche proprio un intervento sulle politiche legislative allora c'è il conclresso da CGL io non ci andrò con la passione di sempre la vicinanza la partecipazione anche senza naturalmente senza intervento ma io penso che ci sia bisogno lo dico un po' crudamente di una svolta c'è bisogno di una svolta c'è bisogno di un'uscita del sindacato dal concerto delle istituzioni e riprendere il bandolo della matassa del conflitto diventare protagonista del conflitto lo dico in maniera che così grossolana ma perché non si può proclamare uno sciopero generale sulla questione salariale come grande leva per la riapertura di un discorso rediscributivo di prima grandezza io credo che a questa domanda bisogna rispondere se io guardo con interesse al sindacato perché mi aspetto che si risponda a questa questione perché no grazie 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 Fausto molto velocemente do prima la parola Elena per la sua domanda grazie sì io vorrei farti una domanda su ultima generazione perché abbiamo assistito questo mese ad un crescendo delle loro azioni di protesta che sono viste da un lato come scioccanti e dall'altro criticate e minimizzate in virtù del loro metodo e quindi vorrei domandarti qual è secondo te il valore del gesto in proteste come queste grazie 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 poco fa discuteremo di titoli da dare al prossimo numero di alternative per il socialismo e uno dei titoli che poi non abbiamo scelto forse troppo impegnativo era l'ira delle donne e dei giovani e io penso che questa questa aria è quella che stia circolando non dico lo spetro per usare la formula troppo famosa ma sì proprio l'ira delle donne intanto non ne parlo a lungo perché diciamo mi vergogno un po' a parlare in tua presenza che ne potresti parlare molto meglio anche questa vicenda che appare così lontana quelle delle donne in Iran è parte invece di questo filo che tesse tutti i rapporti che vanno dagli Stati Uniti alla Meaga nella rivolta di donne in condizione di privilegio economico sociale la rivolta di donne in Iran che possono perdere tutto a partire dalla loro vita però è un'aria che tira è un'aria che circola secondo me non è un caso che la figura simbolica anche sul movimento ecologista sia Greta portatrice essa stessa di una pratica di conflitto per molti versi inedita ecco io penso questo penso che i nuovi soggetti donne e giovani portino non solo dei contenuti che esprimono in forme inedite la critica a questa civiltà capitalistica a questa civiltà non solo ai rapporti sociali di produzione ma proprio al processo attraverso la quale quando parlavo prima di questa macchina capitalistica che uso un vecchio termine di Marx che sussume a sé tutto che tende a portare tutto dentro la macchina e la macchina dentro il sistema con una come dire con un annullamento dell'umano come a una violenza sulla natura sul corpo in particolare il corpo dell'uomo allora di fronte a questo io francamente sono esteri fatto di fronte al fatto che anche in ambienti dico civili perché ormai non saprei più usare la parola sinistra di sinistra non capisco più cosa vuole dire ma invece saprei cosa vuole dire sinistra del movimento di classe sinistra del movimento caio sinistra di classe ma che questi questi stupori per il gesto ma scusate siamo di fronte a un sistema che tenta di ammichilirti di deprivarti di qualunque possibilità anche di protesta non dico solo di protagonismo e uno riesce a inventarsi una pratica che non è impedente non è possibile di essere impedita perché tu puoi intervenire solo ex post dopo che l'atto è già compiuto dopo che il gesto è già compiuto c'è un gesto di libertà è un gesto di libertà che propone però un processo di liberazione ma come fai a non vedere una cosa così io trovo sconcertante peraltro posso dire attraverso una pratica che sta dentro al grande filone sempre innovandosi della non violenza è un gesto è un gesto che non distrugge nulla né di sé né nell'altro usa una vernice che può essere eliminata su una protezione dell'opera d'arte la quale non può essere investita dal gesto dov'è la ragione di una critica con l'aria di dire non si può colpire all'opera d'arte ma si sta colpendo simbolicamente il portato di una civiltà mi viene in mente al solito in queste discussioni di civiltà viene sempre in mente lui cioè Walter Benjamin quando diceva quando sei di fronte a un arco di trionfo sì tu sei colpito dal carattere imponente di questa costruzione e anche dal carattere significativo dell'espressione artistica ma tu non ti puoi dimenticare quanti morti sono caduti sotto quell'arco quante umiliazioni sottopassate sotto quell'arco ed è questo che è questo sempre il disvelamento il disvelamento è togliere la maschera e farti apparire a muso nudo è precisamente quello che l'ultima generazione fa con questi atti per cui bisognerebbe anzi imparare andare a scuola poterli applicare in mille altri campi uno due tre mille insomma ecco grazie Pausto spazio per la seconda domanda che voleva fare Stefano mi leggo all'approccio proprio all'approccio della risposta fatta da Elena a cui ha risposto Fausto verissimo giovani e donne che stanno a me stanno dando tantissima speranza su due questioni molto forti quella già citata da Elena che riguarda il cambiamento climatico la catastrofe climatica incombente ma soprattutto quella della guerra che ormai è diventata una cosa quasi normale accettata ora fra poco ricorre l'anniversario della grande manifestazione di quella che noi chiamiamo liberazione all'oceano pacifico dove perdemmo perché poi la guerra continuò anzi divenne permanente io ho l'impressione tra l'altro troppo ottimista che questa forma di opposizione alla guerra possa assumere altri caratteri e chissà risultare magari anche vincente o rompere quei meccanismi che sembrano farla divenire come la crisi permanente appunto tu che ne pensi Pausto? naturalmente la tesi che tu adombri è affascinante ed è una speranza è evidente che allude questa tua speranza al carattere molecolare che possono assumere fluido e molecolare che possono assumere i conflitti e che possono essere una nuova frontiera per questo sono sempre convinto nella necessità dell'immersione cioè che non si dà nessun discorso sulla sinistra del futuro senza preliminarmente avere operato questa immersione io sciopero tu occupi lei lui contesta noi lottiamo voi vi ribellate essi si battono per la pace questa molteplicità e questa molteplicità è l'acqua in cui dobbiamo sapere lottare però io non voglio sfuggire a un problema quella manifestazione che tu hai citato come più in generale il movimento no global così chiamato il movimento altramondista a cui noi abbiamo così intensamente partecipato ha perso ma io lo vedo come l'ultima transizione l'ultimo ponte tra il novecento la sconfitta del novecento e la possibilità di non arrendersi a quella sconfitta il movimento altramondista e il movimento per la pace sono stati un vecchio comunista avrebbe detto un sussulto però qualcosa del genere cioè il rifiuto di darsi vinti il tentativo di protrarre il ciclo per altre strade e come dice tu abbiamo perso però lì c'è una lezione che senza guadagnare il non uso a proposito il termine potenza che piace tanto a molte componenti della sinistra storica italiana uso il termine forza senza declinare il termine forza la fluidità dei movimenti preziosissimi il carattere molecolare esistenziale non possono convivere con questo turpe capitalismo salvando delle possibilità ma non possono fermarne il corso perché per per fermare il corso bisogna costruire la forza alla forza del capitalismo vincenze devia forse una forza emergente capace di coalizzarsi per poter raggiungere questo obiettivo ecco questo è il punto io sono d'accordo con te lì c'è la speranza non c'è dubbio lì c'è la speranza e bisogna piegarsi dentro per viverla ma contemporaneamente è necessaria la ricerca teorica perché quel tema della forza va ripensato insomma adesso la dico in termini che non sono paragonabili con la nostra miseria ma la comune di Parigi è forse stata la pagina più presentante della storia del movimento operario del novecento almeno secondo me ma il movimento operario organizzato nasce sulla riflessione di quella straordinaria vicenda e della sua straordinaria sconfitta cioè perché in quella tempea della fine dell'ottocento si ha una riflessione di fondo proprio sul tema della forza che poi verrà risolto come sappiamo dalla vittoria del modello tedesco su quello belga e dall'affermazione del partito dei sindacati delle cooperative invece che dallo spontaneismo e dalla spontaneità e dall'autogestione però non la soluzione del problema ma il problema si propone dopo la sconfitta del novecento e di fronte alla riemergione dei movimenti il problema è uno l'immersione dei movimenti e due una ricerca teorico pratica per affrontare il tema il risolto della forza Fausto come sempre preziose le tue parole grazie vengo a posto qui perché siete amici e fate complimenti riprendami un po' dal rischio di depressione grazie ancora grazie a voi grazie tante della disponibilità chiaramente troverete questo video sul nostro sito quindi e diffondetelo grazie grazie ciao a presto a presto ciao Fausto ciao ciao a tutti e a tutte